il viaggio di kirby attraverso le varie terre di topalandia e d'oggi arriviamo alla parte acquatica top acquosa e ci sono ben sette livelli da esplorare io non ce la faccio i livelli d'acqua sono quelli che più oggi in assoluto l'unica volta che ho trovato dei livelli d'acqua che mi sono piaciuti non tanto per il contenuto ma per scusami ah ok va a tempo dicevo l'unica volta che ho trovato dei livelli d'acqua che mi sono piaciuti sono stati in super mario 64 capisco bene bene ma per quanto riguarda la musica non per quanto riguarda il fatto che fosse bello o brutto perché era comunque sia un tantino ostico ma si riusciva a fare tutto sommato però ecco insomma diciamo che livelli d'acqua io ragazzi non li sopporto proprio ok devo scendere qui sotto vedo perfetto andiamo qui non ci facciamo prendere da quello sennò ci fa solo male e arriviamo qui ok apriamo dove mi conduci non dirmi che cambiamo le maree perché non dirmi che cosa luna piena cambia il sole va bene va benissimo cioè però devo prendere la spada lì sotto ragazzi prima di avventurarmi qui sopra ecco perché anche sennò niente ho sbagliato sbagliatissimo tutto ma perché sbaglio sempre boh non so cosa sta succedendo kirby prendilo è lì cioè dovrebbe andare in automatico l'azione non va non volevo farlo proprio mai questo non volevo farlo assolutamente ah ok siamo qui tartarughe che cosa niente sta lì ah ok ci oh ma sei pazza ok 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 saliamo saliamo perfetto ah ma ci fanno da strada allora piccottino devi morire male ok eccoci qua no no mai ok aspetta però ok 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 Volevo leggere, ha poi fatto... Ah, perché mi sa, per colpire. No, questo serve... Servirà questo? Servirà? No, non serve. Tu! Muori! Nostro rivoltante. Mi dispiace dirlo, ma è rivoltante. Ok, posso oscillare. Ah, bene. Oh, principe! Oh, che tu hai? La spada. E poi non è una spada, ma è... È una graffetta. No! C'è un modo. Deve esserci un modo per arrivare più in alto possibile. No, forse non c'è. Però magari se riesco a vedere qui... Ok, sembrerebbe... Che tu debba morire. Ok, devo aspettare la marea. Aspettiamo la marea. Opla! Grande! Ok, perfetto. Ciacchete! Orologio è lunare. E metto una luce fioca e si oscura una volta al mese. Prendiamo questo un'altra volta. Questo è quello che spara, sì. Uoi! Ci sono i mostri! Boh, ho preso il volo. Opla! Yei! Ah, aspetta qui. Come funziona? Questi salgono pure loro? Sì, salgono pure loro. No! Ok, vabbè. Veloce, veloce, veloce! Perfetto. Ok, qui non caschiamo bene. I cavalloni? Fammi indovinare, devo stare sempre in cima per prendere il disco. No, non devo stare sempre in cima, però l'ho preso. Spiaggia Splash Giorno. Questo è il tema musicale della spiaggia Splash di Giorno. Potevo andare avanti se non era Giorno? Bene, bene. Vai così, vai così. Dai, però, su. Sfermato malissimo, l'ho fermato. Dovevo rifletterci un attimo, vabbè. Però intanto, al primo try, tutti e tre i tesori. Hai! Fischietto! Per riguardo a spiaggia, ovviamente. Baywatch. 300 perline in più. Però a rango argento, vabbè, dai. La toppa fischietto. Bella, bella. Ma, insomma. Potevo puntare all'oro, se stavo più attento e prendevo tutti quanti... Tutte quante le perline. Oddio, no. Interamente sott'acqua? Oh, cavoli, ragazzi. Oceano glu glu. Oceano glub glu. Andiamoci con la calma. Devo armarmi di tutta quanta la calma possibile. Ci vuole solo calma. E poi il boss, questa volta, è anche un boss acquatico. Ok. Oh! Ah, ma non mi ha fatto nulla. Eh, la corrente! No! Perché posso venire in superficie? A cosa... Per quale motivo? Ah, per questo. E per questo, beh... Ok, ragazzi, ma voglio andare un attimo qui sotto. Uh, beh, beh, sì, sì, serve, eh, serve. C'è qualcosa qui? No? Niente? Ma certo che c'è invece! Eccolo! Lampada medusa! Con un interruttore accendi la luce. Con l'altro prendi la scossa. Buona fortuna! E in effetti non è molto facile capire quale interruttore accende la luce e quale tira la scossa. Perché uno c'è il fulmine, ma uno c'è la stella. Oddio, è meglio una bomba sott'acqua o questo? No, va bene questo, va bene, sott'acqua. Posso anche scendere! Ok. Ok, perfetto. Uh, grande! Beh, è più facile prendere le perline in questa maniera. Sicuramente. Posso anche scendere. Non posso scendere. Ma intanto le perline le prendo sì. Ah, qui posso scendere invece. Ah, ma... Sanno collegati? Oh! Sì, questa cosa c'era anche in Kill Beasts and Allies. Mi è... No, non mi è piaciuta. Cioè, era facile come il livello d'acqua. Per carità era davvero facile. L'ho apprezzato, diciamo. Dai, per quanto io non sopporti i livelli d'acqua. Era fatto in maniera abbastanza carina, tutto sommato, eh. Non era proprio... Tu cosa sei? Ah, le vedute quelle con i super tentacoloni, eh. Quelle che se ti pungono, devi andare all'ospedale. Mia cugina una volta è stata appunto da un toporagno. Da un... I toporagni sono quelli che si trovano in acqua. Non ricordo come si chiamano. Sottomarino? No, pesce. Finito? Oh, wow. Bello. Sì, ciao. Wow. Ah, ma devo prendere velocità con A? No, basta che vado con B. Principai! Dimmi tutto! Ma sono un defino! Non uno squalo! Eh, ma ora capisco. Ma così però non prendiamo... Ok! No, no, no. No, te lo scordi. Ve lo scordate proprio. Ma lo vuoi prendere? Grazie, eh. Alla buon'ora. Quello è un semplice masso? Beh, è preso. No, due, va. E anche a te. La cascata? E veramente vorrei prendere... Io sono sicuro di averci lasciato qualcosa. Infatti me vado a prendere, va. Ecco, per la scossa vado a prendere. Ok, andiamo un po' qua sopra. Va tutto così, eh? Ok. Perfetto. Così almeno faccio un po' di punti. Ah, questo è quello doppio, quello multiplo. E tre. Ok. E ora scendiamo. No 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 Nooo Questi non posso sconfiggerli Sono troppo Vicini a prendermi dopo Ok dove devo andare qui ragazzi Non capisco Wow, preso, c'è uno glub glu Questo è il tema musicale dell'oceano glub glub Ok, perfetto Preso, ok Ci siamo allora, è quasi finito È quasi finito, ho detto Aiuto, no, no, no Oh, tutto ripreso Cosa è successo? No, cos'è? Calma Ma che cosa? Sì, sì Ma devo prenderle con A? Sì Con A le posso far Che cosa? Senti, tu già mi hai squacciato E tu pure Pet, pet, pet Eccola qua Allora Ah, per una Ma va, dai Vabbè, per Se è solo per Così, no Voglio provarci Ci sono riuscito, ma Oh, fregati Fregati, ragazzi Fregati E via E via Fine Questo livello acquatico È finito L'ho fatto tutto quanto Aprimo Trai E Va bene Così, va bene Non ti azzardare Bravo Wow Con la calma L'ho fatto tutto Ci ho messo un pochino Ma l'ho fatto Parà, parà, parà Hai Il salvagente Che sia la sfida contro il boss Già subito Il terzo livello Oh Ce ne ho lasciato uno Cosa? Ce ne ho lasciato uno No, non è il boss Cosa ho lasciato Eeeh Vabbè, però Anche lei, signora balena Tocca rifarlo Cielo Eccolo, lo sapevo Acquario Credo che i pesci si siano nascosti Che conigli Praticamente bisognava fare Canestro Con queste Palline qui Isola segreta Ah Che nome intrigante Vediamo Oh, possiamo andare già indietro No, possiamo anche andare indietro Ma è giusto per far vedere Che finisce la spiaggia E inizia La terraferma Possiamo salire Ah, sì Perfetto C'è nulla qui nascosto Magari con una bomba No, non sembra Questa ostra Questa ostra L'ho già sentita Per caso In qualche altro livello Magari No Ah, scaletta Bene Molto bene Ah, non posso prenderla Perché proprio è sopra Sto pensando Non è che qui continua E devo andare fino a qui No Come allora Che non mi ci va Perché non mi ci arriva Si blocca lì Si blocca Ah, posso salire qui Senti È assurda Sta cosa Dai Ok Quello Quindi è il primo tesoro Che troviamo Siamo sicuri? Sì A quanto pare Sì Ok Ok Ho ucciso al volo Senza guardare Quel coso Sicuro che non c'è nulla qui Ok Come posso arrivare Di là? Non lo so Usciamo E andiamo qui Perfetto Tappeto tesoro Basta camminarci sopra Per sentirsi La persona più ricca del mondo Ma Se ti senti solo E non lo sai Allora È un po' inutile No Cioè Devi esserlo Continuiamo Offla Nuovo potere Cioè nuovo Insomma Per questo livello Nuovo Che fai? Buia Bene Qualche perlina Non fa Non fa mai male Ti prego Ti prego Ti prego Non cascare Sì Basta Va bene così Mi bastava Poco e poco Perderle Non tutte Per favore Ecco Me ne sono pentito Sicuramente Me ne pentirò Dunque Da qui usciate Oddio Cos'è? No rientriamo Allora Tac Tac E mo usciamo Da lì Spawnano Nemici Per quale ragione? No rientriamo un po' Un attimo Sono curioso Di vedere una cosa Ora No Nulla Cioè Cioè O devi risvegliare In qualche modo Sto coso Ma Ma Non penso Boh Non lo so ragazzi Cioè Principe Su Dai La mossa Devo farlo esplodere Può essere Un'idea Eccolo Con la bomba L'ho preso Ragazzi Non so come ci sono riuscito Ma con la bomba L'ho preso Ehi Quelle facce Mi sono familiari E beh sì Che botta Proprio Di fortuna Molta fortuna Qui che succede? Ah I waddle I Vabbè Non mi interessano Molto le Le perle perline E qui Devo salire Qui per forza Ma te ne vai A quel paese Per favore Te lo chiedo Di cuore Toh Aha L'ho ripreso All'ultimo Ma io di qua Come ci vado Io questo mi chiedo Certe cose Non le capisco proprio Non riesco a capire Certe cose Ragazzi Sono strano io? Probabile Ai 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 Ah ma devo Entrare qui allora E poi uscire qui E cascarci male? Per quale ragione? Non andava bene Che fossi salito Qui sopra Eh Non ci sono Però dovevo andare Di là forse No non credo Perché tanto mi avrebbe Comunque sia portato Di qua Oh Perfetto A parte non ci tocco Credo Infatti non ci tocco Dice di andare su E io lo ascolto Ascolto il cartello Non devo ascoltare il cartello Ok Non ho spiegato L'opportunità Ok perfetto Ci siamo No Ok ok Dai dai Ancora un po' Ancora un po' No 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 Grande Grande Salvo Salvo per miracolo Non so come Non sono salvo Ok ok Ci siamo Ok E qui Non so cosa c'entri tu Mi dispiace Ma devi farti male E levati Gibes Ancora E te ne vai Oh ragazzi Ok mi serve qualcuno Un altro Waddle D Eccolo Ok Ok preso Oh ragazzi Ce l'ho fatta Primo tentativo Allora Spiaggia splash Di notte Eccolo Questo è il tema musicale Della spiaggia splash Di notte Ora posso veramente Concludere il livello Senza proprio Problemi Di sorta Perfetto Ora possiamo finirlo Con proprio Punteggio più basso Della storia Di tutti i videogiochi Ma Ehi Non punto a quello Io punto solo Ai tesori E tutti e tre Oh yes Stop a cuore Olio cuore Dove vai Un altro livello All'oscurità Profondità marine Va bene Ma non in questo video Perché in questo video Ho già dato Anche troppo Va bene Cugine Nel prossimo video Cercherò di finire Tutto quanto Questa top A cuosa Intanto Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Questo episodio Di Kirby E la nuova stoffa Delle eroe Vi ricordo Come sempre Che in descrizione Trovate il link Per instagram E se ancora Non siete iscritti A canali Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video Bye bye Ciao 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 Grazie a tutti.